ciao a tutti ragazzi sono Matteo Lemori e oggi otterremo due pokémon tramite la banca pokémon saranno Passimian e Oranguru pokémon di settima genna settima vero oddio vediamo che mi dice tanto continua ad aggiornarsi ma quanti aggiornamenti ma quanti aggiornamenti no ok è così vero no che non me lo ricordo proprio come si fa un regalo speciale per ottenere la tua fedeltà sono il pokémon oh eccovi qua visto visto lo sapevo lo sapevo Oranguru e Passimian benissimo dono segreto dono segreto andiamo subito a prenderli ok grazie grazie mille grazie mille grazie mille non mi importa questo adesso non mi importa perché voglio subito andare a prendere il pokémon che mi aspetta anche amiche di uno segreto è anche piegiamo sul pokémon sole ma aggiornamenti non mi interessa non mi direi che non ditemi che devo aggiornare pure l'uvi devo aggiornare pure l'uvi per ricevere il pokémon no vero o si va allora allora vai non c'entri il pokémon e ritira il dono segreto quindi 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 ok perfetto fatemi vedere la squara la squara è completa la squara è completa tanto vi sto spoilerando qualcosa per il prossimo video ma voi non avete visto niente adesso troppo più bravi allora sì ho ottenuto Oranguru o è Passimian ok la Passimian ce l'ho già ma non me la data ma non mi importa me la devi dare beh tipo normale psico nessun soprannome no ho aggiunto la squadra dammi passimian certo certo diamogli un'occhiata subito tanto sono la fila storica nessun soprannome grazie grazie livello 50 in posizione ripiche distorta zona cambia posto la vita la vita oddio che simbiosi che abilità è la conosco passimian passimian livello 50 livello 50 con zuffalo lì nell'erba alta passimian lì 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 passimian passimian andiamo subito con passimian mi piacciono per le mosse sporco l'azzo oh che figo pastimian mi piace un casino l'ho mai allenato l'ho quasi buono sciattato l'ho anche avvelenato wow l'ho avvelenato sgromocchio non fa niente beh eh peccato mi spiazza voglio farlo un'ultima mossa vabbè amen proviamo oranguru mi piace di più passimian ragazzi voi preferite oranguru e passimian passimian è più bello dai siamo sinceri pelai però che mosse ha cos'è in posizione fatemi vedere non l'ho fatta nulla ma l'unica mossa utile che ha è di picca per il resto i ragazzi non le fa nulla ecco siamo a posto si inizia così siamo a posto devo sostituirlo dai chiamiamolo il nostro passimian pensaci tu pensaci tu con eh bah che usiamo usiamo privazione che le fa un buon danno 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 e ora li dai di sciottarla con sporco lancio ma gg ma gg ma gg siiii grandi non l'ho asciuttato sull'energia e ora che ne vai a casa a casa con retromarcia che è una mossa tipo con le otto però penso che basti voglia ma ma quanto mi piace passimian ragazzi mi piace troppo bellissimo niente ragazzi io vi saluto se il video è piaciuto spollicciate fatemi sapere voi cosa ne pensate preferite passimian o ranguru io preferisco passimian penso sia capito nel video mi piace di più più figo e penso sia anche più forte o ranguru penso che sia più solo difensivo sia un pochino più difensivo e niente io vi ringrazio per la visione commentate spollicciate se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo in un'occasione video un saluto da mattia del lemori ciao